Devo dire che l'investimento sul Porto Vecchio è un investimento straordinario, importantissimo, cambia il volto della città. Quando approvamo l'emendamento pensare che erano qualche riga scritta su un foglio che oggi diventa un recupero urbano, storico, di tecnologia. L'investimento sul Porto Vecchio è destinato a cambiare il volto della nostra città. È convinta la ministra per le infrastrutture, Paola De Micheli, che dopo aver partecipato al forum promosso da Assofer è stata accompagnata a visitare l'antico scalo dal sindaco di piazza, dal vicepresidente del consiglio regionale russo, presenti tra gli altri il presidente dell'autorità portuale d'Agostino e il consigliere comunale Toncelli. E incontrando il presidente di ESOF 2020, Fantoni, De Micheli si è detta colpita anche dai tempi di realizzazione di quella che diventerà la sede dell'evento internazionale del prossimo anno. Si tiene insieme la scienza, la conoscenza, l'innovazione, con la storia, con quello che sarà il futuro di questa città, perché anche urbanisticamente di fatto si modifica. Ecco, è veramente impressionante, sono molto felice e penso che le donne e gli uomini di questa città possano essere anche molto orgogliose, anche dai tempi con i quali effettivamente, da quando è stato sdemagnalizzato, si è avviato la sua fase di rinascita. Trieste dà già molto al paese, ha dichiarato la ministra durante il forum. Il riferimento era rivolto in modo particolare al porto. Un porto così ben infrastrutturato non è così semplice da trovare in giro per l'Italia e per l'Europa. È un porto che è competitivo con i grandi porti del nord come Hamburgo. Tutto questo può migliorare, deve migliorare, lo miglioreremo. Gli investimenti sono previsti, ci sono investimenti pubblici, investimenti privati che ovviamente la capacità di saper fare fa in modo che vengano attratti in maniera molto più facilmente oggettivamente.